Questo è il laccio che ci annoda alla verità delle cose dal fondo che non è in gioco innanzitutto e direttamente un buon andamento della società una possibilità di convivenza più umana una collaborazione a cambiamento verso il giusto delle cose una liberazione dalle angherie del potere dalle menzogne coperte di violenza non è questo perché se fosse direttamente questo potremmo inventare un partito comunque il nostro movimento ha immediatamente e direttamente un altro scopo mettere in gioco noi stessi la nostra persona scusate non esiste una cosa più umanamente sconvolgente e vera di questa niente di più ovvia umanamente ma di più sconvolgente di questa frase di Cristo che giova che giova se realizzi tutto quello che ti viene in mente se ti prendi tutto il mondo e poi smarrisci il significato di te stesso per dirà l'anima tua o che darà l'uomo in cambio di se stesso l'affermazione di un'ideologia un'opposizione dialettica nella società una rabbia sfogata con pugno con volto una violenza carnale un accumulare ore e giornate di comodo o quella curiosità del sapere che quando è intelligente non può che diventare o rabbia o spasimo per la sproporzione sempre più evidente del mezzo all'oggetto della propria mente all'enigma della realtà che giova l'uomo prendere tutto il mondo se poi perde se stesso o che darà l'uomo in cambio di se stesso questa è la prima parola l'abbiamo nominata quattro anni fa per la prima volta facendola diventare uno dei termini usuali da allora autocoscienza autocoscienza il termine non è molto poetico del preciso coscienza di sé sentimento della irriducibilità di sé che darà l'uomo che darà l'uomo in cambio il sentimento della irriducibilità di sé perché non esiste che cosa esiste che cosa esiste di più evidente quando pronunciassimo la parola io con un minimo di tenerezza attenta che cosa c'è di più evidente che pronunciando questo io uno afferma sente d'affermare percepisce d'affermare una realtà più deducibile che non esiste altro che potrà nominarsi con quella parola in tutta la storia di ieri di oggi e di domani nell'eterno guardate che la novità della vita è in proporzione del maturarsi di questa coscienza di sé di questo sentimento di sé di questo sguardo e gusto di sé per favore ma comprendiamo che il soggetto vale a dire ciò da cui scattano scattoliscono da cui prendono consistenza da cui prendono volto tutte le cose vale a dire tutti i rapporti cioè tutte le azioni tutti i movimenti è questo io io c'è una legge una legge che dovete segnare una legge di questa autocoscienza della vita di questa autocoscienza di questo io di questo di questa persona che sono io e non c'è prezzo per questo io come diceva Pascal cos'è questa persona un punto invisibile dentro l'enormità dello spazio ma se lo spazio tutto se tutto il mondo si precipitasse addosso a me a questo punto a questo punto effimero dentro l'apparente stabilità del tutto se si precipitasse addosso a me per schiacciarmi io sono più grande di lui perché io comprendo ciò che sta avvenendo comprendo c'è qualcosa in me che sfugge alla presa di questo immenso cataclisma e lo definisce lo afferra dal di fuori lo comprende non c'è nulla che possa pagare questa mia persona ve l'ho detto che c'è una legge la formula si riconosce e si ama la propria identità si riconosce e si ama la propria identità amando un altro riconoscendo e amando un altro a virgolette è riconoscendo e amando un altro che incomincia scaturisce la capacità di affezione noi amiamo riconosciamo e amiamo un altro un uomo riconosce e ama una donna veramente solo come proiezione di una energia di riconoscimento e di amore a se stesso perché lo dice che il Vangelo ama il prossimo tuo come te stesso il criterio sorgivo per amare un altro è l'amore che è un me stesso noi non quante volte ce lo siamo noi non amiamo gli altri perché non amiamo le stesse non si è capace di voler bene di essere amici se non si è riconosciuto d'essere stati amati o di essere amati dal padre o dalla madre chi studia psicologia non sa bene sì è psicologicamente documentabile la percezione chiara di essere voluto di essere desiderato di essere stato voluto e amato di essere amato questo è fondamentale per la sanità psichica lo sanno tutti ma nessuno pensa alla struttura della legge che c'è dentro qui se tutto madre padre donna uomo non vengono scoperti con ammirazione ed esaltazione in una contemplazione che inizia da qui proprio da questa scoperta non vengono scoperti come segno di una struttura originale dell'essere nostro di ciò che si fa essere essere perché in questo momento ciò che sono non me lo do essere voluto esistere vuol dire essere continuamente voluto voluto cioè essere amato o nella metafora della scuola di comunità essere chiamato dal nulla ogni istante è la consistenza del mio io che tu mi voglia o dio siamo la propria identità amando un altro può non essere guardato da nessuno ma uno che s'accorge di questo è un uomo libero equilibrato magari con lo sguardo doloroso ma il dolore è la cosa più sana esattamente come la risurrezione come la gloria direbbe la bibbia perché la gloria o risurrezione la vita è attraverso la croce il dolore io diceva quello che ho donato niente di più illusorio e quindi di più gonfia menzogna di questa la mia consistenza è quel che ho donato questa è la definizione è una definizione che non si attaglia all'uomo alla creatura io ho quel che ho donato l'esaltazione dunque della consistenza come reattività della consistenza come violenza come reattività e violenza io ho quello che sono stato dato questa è la frase giusta io ho io sono io consisto io ho quello che sono stato donato il riconoscimento di questo è l'autocoscienza da cui scaturisce l'affezione a sé alla propria vita all'altro a la vita dell'altro da cui scaturisce l'umano l'umanità più io sono consapevole perciò più sono personalità più io me ne vado in giro guardando le cose parlando con gli uomini con dentro in trasparenza la coscienza di questo essere fatto di questa presenza che mi costituisce di questo tu col te marusco che mi costituisce e la preghiera diventa la dimensione normale del vivere questo è il l'abisso che l'età ha scavato nel mio animo però era una cosa che si scavava dal mio liceo perché queste cose io le sentivo dal mio liceo questa è la forza della libertà e questa è la forza della creatività e questa è la forza dell'amare è la forza dell'affezione questo è l'umano questo è la genesi la matrice l'utero dove nel fuori l'umano questo profondo ignoto questo enigma con le maiuscole questo dio ineffabile che non si può dire questo tu senza occhi, naso e bocca questo mistero vivente che da consistenza al mio io è diventato un uomo che diceva padre che diceva mamma che diceva donna non piangere che diceva anche voi volete andarvene che diceva ipocriti che diceva venite a me tutti voi che non capite dicevi confugli e stanchi che diceva ti prego padre da la forza d'essere una cosa sola non che diceva non vi chiamo più servi ma amici che diceva uno solo è il vostro maestro io tutti voi siete fratelli mi chiamate maestro e fate bene lo sono infatti che diceva chi di voi è senza peccato scaglie la prima pietra che disse se ho fatto qualcosa se ho detto qualcosa di male spiegamelo e se ho detto bene perché mi percuoti che disse padre perché mi hai abbandonato e che gridò tutto è compiuto perché aveva prima detto la grande grande parola la grande parola dell'uomo cioè di amarlo padre non la mia ma la tua volontà sia la natura dell'essere sei tu la consistenza mia non è la mia immaginazione rancicante d'uomo non è la mia la forma breve della mia sete di vita ma è la sorgente vera della mia vita è diversa tu la mia noia sei tu questa autocoscienza dunque è coscienza della sua presenza coscienza della sua presenza tra noi se se l'autocoscienza ha come suo contenuto ultimo profondo la percezione la scoperta ammirata contemplante stupefatta di un altro che mi costituisce dal fondo di me questo altro è diventato uno uno tra noi è diventato uno cui dire tu ma col volto con gli occhi in mezzo alla bocca uno a cui si poteva stringere la mano su cui si poteva mettere sulla tua spalla si poteva mettere la mia se dunque il contenuto ultimo dell'autocoscienza è questa realtà che mi fa Dio la misura dell'essere personale è questa religiosità questo fondo questo tu col T maiuscolo questo enigma con le maiuscole è diventato uno di noi nessuno ha visto il Dio il figlio ce lo ha lavorato chi vede me vede il padre uno di noi fate tutto in memoria di me memoria riconoscimento di questa presenza l'autocoscienza ora la mia autocoscienza di uomo chiamato a questo incontro di uomo cristiano anche noi non comprendiamo niente di quello che tu dici ma se andiamo via da te dove andiamo per tu solo hai parole che danno alla vita che cos'era la vita nuova due mila anni fa abbiamo detto che l'autocoscienza rappresenta la novità di vita uno sente la vita nuova quando più è cosciente di sé stare con la sua presenza due mila anni fa la vita nuova era stare con la sua presenza questo sentimento di libertà di consistenza del proprio io questo sui sì che parla con l'autorità che mi dà consistenza era stare con la sua presenza tant'è vero che scrive il polisei e tutta la massa che andava per curiosità o per interesse per aver dei miracoli e se ne andava non aveva questa vita nuova eccetto per la brevità dell'istante in cui erano là con gli occhi sgranati a sentirlo parlare o a vederlo a far miracoli duemila anni fa la vita nuova era stare con la sua presenza avveniva stando la sua presenza come un rivollimento un rinnovamento di sé nasceva nasceva l'io nasceva l'io con la sua consistenza trasparente cristallina con la sua forza viva con la sua sete e capacità di voler bene con la sua umanità insomma non siamo un umano dentro di sé Giovanni 3 Nicodemo da Cristo bisogna nascere di nuovo in verità ti dico bisogna nascere di nuovo se vuoi capire la realtà se vuoi entrare nella realtà bisogna nascere di nuovo si nasceva di nuovo così insomma ragazzi l'autocoscienza è la fede la fede è riconoscere la sua presenza questa è la fede e questa è l'autocoscienza la coscienza di me quanto più io risusciterò nelle mie ore nella mia giornata la coscienza di questa presenza facendo tutto quanto più io riprenderò la coscienza della tua presenza oh Cristo tanto più potente è la mia identità tanto più profondo è la tenerezza verso di me stesso la misericordia tua verso di me e tanto più potente è la creatività di rapporto con l'altro andate a rileggere Colossesi primo capitolo versetti 1-23 quando parla della conoscenza del Dio amici miei il primo problema del nostro movimento il primo problema non è organizzare la comunità ma proseguire l'annuncio non è amicizie tra me e te se non ti ricordo questo prima e più con ogni altra cosa cogliamo sorprendiamo con precisione l'attimo e il fenomeno in cui l'autocoscienza entra in azione cioè il soggetto umano entra in azione la nostra personalità si muove il primo il primo istante il primo tipo di fenomeno in senso assoluto l'iniziativa la iniziativa è il desiderio del ricordo quando ci si alza al mattino ragazzi quando ci alziamo al mattino che cosa desideriamo? dobbiamo far fatica è vero a trapassare tutta la ganga dei desideri che istintivamente si presentano al nostro cervello alla nostra coscienza alla nostra anima dobbiamo resistere a questo e penetrare questa ganga per andare al fondo di tutto a questo desiderio del suo ricordo perché tale è la preghiera del mattino se tutto non arriva a questa sponda ultima su cui fragile e nudo come un miserabile il miserabile dell'essere che sei tu che sono io sta ad aspettare ciò che lo salva lo compia ciò che lo realizzi ciò che lo spani e lo disseti ciò che lo renda padrone di sé e del mondo perché per questo siamo nati a imitazione di colui che è la nostra coscienza se tutto non arriva a questa sfonda prima tutto diventa inutile perciò valore rendere funzione di questa presenza inesorabile storica di questo eterno fatto storia e rendere funzione di questa presenza tutti gli istanti secondo tutto il loro contenuto io non sto strappandomi via dalle vostre affezioni dei vostri interessi e dei vostri piaceri umani io sto riconducendovi a quel io tento di ricondurvi a quella radice di tutto in cui affetti interessi e piaceri fioriscono in una gloria impensabile e diventano permanenti diventano veri la maturazione di questa iniziativa la capacità di questa iniziativa matura come storica non arrestiamo non arrestiamo questa iniziativa neanche per il tradimento e il tradimento più ignobile che è la dimenticanza e la distrazione cui siamo abituati la delusione di quando ci accorgiamo di non aver fatto la delusione di quando ci accorgiamo di non aver fatto è un laccio da rompere non lasciamoci prendere da questa delusione sapete perché non l'abbiamo fatto sapete perché abbiamo sbagliato sapete perché siamo stati distratti sapete perché siamo stati ignobilmente abbiamo ignobilmente dimenticato sapete perché abbiamo tradito cento volte mille volte ieri lo sapete perché Dio ha permesso questo perché oggi ora tu usi questo disastro come strumento per ricordarvi di lui quante volte un milione di volte un milione di un milione di volte sempre questo cammino si impara camminando la maturità viene facendo ma come fai a fare se lo sai il cammino perciò la norma la regola fondamentale di questa storia di questo cammino è una sola la sequela seguire 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 chi già conosce questo cammino comunque lo faccia perché il maestro ti indica con sicurezza con persuasività con dimostrazione il progetto della tua maturità non può venire da te l'importante nella vita è riconoscere il maestro perché non si sceglie il maestro lo si riconosce scegliere il maestro significa andare dietro la violenza dei propri pensieri e dei propri antivogoli come leggerete nella seconda lettera a Timoteo capitolo 4 versetti 3 e 5 si chiama autorità d'accordo si chiama autorità ma per amor di Dio distruggete il concetto trasfero di autorità come lo usate perché è veramente un cadavere mummificato è un è un fossile il concetto di autorità è uno schematismo rabbioso che mi rende rabbioso cioè unibondo quando lo trovo perché non è affatto l'immedesimarsi con la persona ma è l'immedesimarsi con la persona con i valori con il valore della persona perché la persona può essere più pidocchiosa di te può essere più possessiva di te può essere con la testa piccola ma se tu l'hai riconosciuto maestra per i valori che erano nel suo accento per i valori i valori che sono tutto ciò che ti fa capire e ti allena a proporzionare il destino l'istante l'istante secondo il suo contenuto il rapporto con la valosa o con il tuo padre e la tua madre o con l'insegnante con l'estra parlamentare o con la comunità che ti pesa perché non ti lecca il muso sono fragile amici miei e ho finito sono fragile perché vivo solo di questa sequela quello che io sono è per la sequela che vivo una sequela che passa attraverso i segni degli uomini di uomini di uomini quei segni che sono degli uomini che il dirci ha fatto incontrare ma che col tempo che passa pur seguendo sempre questi uomini col tempo che passa divento sempre più evidentemente e direttamente Cristo l'unico maestro uno solo è il vostro maestro sono fragile perché vivo di questa sequela di questa sequela degli uomini a una comunità a un movimento guidato in cui vive la sequela di Cristo è la sequela di Cristo l'unica ragione di tutto è il seguire Cristo l'unica cosa che si deve perseguire non ho più una consistenza mia non ho più certezze costruite da me in una hubris in un gonfiamento violento di me e allora la vita cammina per una luce e una certezza e una affezione che non creo con i miei pensieri che non creo con lo sforzo della mia volontà ma che mi trovo addosso una certezza e una tenerezza una certezza e un'affezione che mi trovo addosso seguendo un'affezione di un'affezione con i miei pensieri Grazie a tutti